L'economia in apertura serve una maratona nella sede di Confindustria ad Ancona, ma alla fine c'è l'intesa per difendere l'occupazione nel gruppo Elica, la multinazionale leader nelle cappe aspiranti. Trovato un accordo innovativo anche per fare fronte alle nuove normative sugli ammortizzatori sociali, già esauriti nel gruppo fabrianese. Seguiamo Pierpaolo Rivalta. Ancora 8 ore di trattativa, ma l'accordo c'è negli stabilimenti Elica, che i temuti 165 esuberi si riducono a 30. Terminati gli ammortizzatori sociali, anche a causa delle nuove leggi entrate in vigore, le parti trovano comunque il compromesso per difendere l'occupazione. Questo è stato un obiettivo sempre presente in noi, che ci ha portato di fatto a fare un accordo sicuramente difensivo, ma indubbiamente importante per quanto riguarda l'occupazione e anche il mantenimento parziale del saliario dei lavoratori. In un paese dove la crisi ancora non è terminata, noi riusciamo a garantire ancora i posti di lavoro e questo non è poco, sapendo anche che la popolazione dell'Elica è una popolazione estremamente giovane, quindi hanno bisogno di un posto stabile. Incentive aumentati per gli esodi che dovranno essere volontari. Chi resterà comunque dovrà tirare la cinghia con un sacrificio comune per garantire i posti. La prossima settimana le assemblee dei lavoratori, poi il referendum. Un accordo che darà retribuzioni in qualche modo, chiaramente in parte, per sopperire quelle ore che non si potranno lavorare a causa della crisi aziendale. Quindi diciamo chi rimane dovrà sopportare una riduzione di orario, questa è la soluzione? Assolutamente sì, purtroppo il fulcro dell'accordo è questo.